anche lui arriva a lungo e quindi arriva là vai vedi che ti ho detto che arrivava là quarta quando siamo di là qua non serve a niente non c'è niente c'è solo la discesa stupida e basta quando siamo giù si è quarta questa ma che è quarta? adesso è venuto su in terza ma lui è sbagliato la marcia sicuro guarda che lei era lì maledetta porca miseria tutte e due ce l'hanno su e non ce l'ho oggi tutte e due ce l'hanno su bisogna tagliargli la via passi sotto seve no sotto non può si passa sotto si via ok ok ok